E' partita la prima gara della giornata qui Anche l'ultimo che ha fatto la rotonda vuoi dare il via a Biginio Sei d'accordo? Allora inizio gara, comincia ad allungare un attimo Inizio gara, sono usciti tutti dalla rotonda Ok inizio gara allunga, allunga, inizio gara allunga Ok inizio gara Andiamo, andiamo Andiamo andando avanti senza tempo per la rotonda di cavargo Inizio, passa la rotonda, ecco, buona, lunga, vai, vai, vai Ecco il gruppo è compatto, in fila indiana Lo soccorso Soccorso Forza tecnica Guardiamo se c'è una figa Alpo giusto spilato in fila indiana Allora adesso Dai Pranti Dai Vigilio Dai Dai Un balunafuga Ecco, ecco rimanenti No, asi che c'è da un flotone Dove ne vedi? No, è di Goni che amo da Venere No, ne vedi che si vede fatto Ad te ne vedi... Ad te ne vedi, non ne vedi Ad te ne vedi Non ne vedi, da dormer Ecco il gruppo non abbiamo filmato quasi niente ci siamo già capiti ma che cosa dobbiamo fare ecco i rimanenti poi si era spaccato in tanti tronconi il quarto e il quinto il sesto il settimo come si fa a comprare prima di rientrare la saga il quinto è spaccato in tanti tronconi domani ancora mi trovate no io non esco con te non esco con me domani almeno no neanche con te perché mi avete più donato non andassi non andassi non andassi non andassi per far essere un allo perché che gare no per il tempo faccio salire no non andassi non andassi Grazie.